Ti vado un secondo a tirare l'occhio e sembra con effetto Allora Allora Adesso sono contenta che tu ti senta la pelle e la zona pericolare bella idratata e rimpolpata andrò a mettere comunque un pochino di crema idratante giusto perché dopo andiamo appunto a mettere il fondotinta però lasciami solo farti massaggiare il residuo della maschera su tutto il tuo viso come te lo senti? un po' sul collo molto bene vado a prendere la crema anche questo è una mini size guarda che carina vado a mettere solo un pump spalma un po' sulla mia mano e lo vado a spalmare un secondo sul tuo viso giusto per dare quell'idratazione necessaria d'accordo d'accordo molto bene bene adesso siamo pronti per il make up ok come fondotinta questi tre queste tre nuance allora quella più chiara è la 05 direi questo è fondotinta in polvere so che ti piace poi abbiamo la 21 e la 40 secondo me tu sei tipo la 21 la 5 è troppo chiara però direi che è questa la vado ad aprire direi che questo sotto anche il cuscinetto e lo specchietto direi che questo può essere a caso tuo non direi che è un po' scuro no più o meno anche il mio colore ok e il fondotinta l'abbiamo scelto adesso questo andrà a farti un pochino anche da correttore quindi non mi sono portata il correttore e poi volevo farti scegliere il mascara sono portata anche il primer ma non penso sia necessario un'altra non penso niente pre mascara fra cui farti scegliere allora il primo è il Lush Paradise e questo è veramente molto 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 nero e dà molto 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 lume quindi ti interessa proprio che le tue ciglia siano pienissime con questo si deposita comunque tanto prodotto la seconda opzione e questo questo si chiama The Falsies Surreal questo si parla molto bene è quello che io anche io indosso questo le separamo molto 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 bene guarda il peglì la terza opzione è un mascara marrone questo mascara dà un effetto abbastanza naturale un po' meno di impatto rispetto a quello nero e separa ogni singola ciglia che hai veramente dimmi te quale effetto preferisci proviamo quello marrone va bene ok passiamo al make up allora appunto il bonadita l'abbiamo già scelto vado a scegliere sul pennello e venerdì ok qua si qui 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 Allora Io direi che per il fondotinta Vado, vado, vado a prendere Questo qui con Le setole piatte Ok Mi avvicino un attimo Ne metto veramente Un filo Perché so che Uno Non ti piace È una troppa coprenza Due Non hai bisogno Ok Non che qualcuno ne abbia bisogno Ovviamente però Non è veramente Nulla che tu possa pensare Di dover coprire Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo Un attimo poco poco giusto per uniformare l'incarnato lo so è rilassantissimo aspetta che te ne metto anche un pochino sotto e sopra gli occhi chiudi chiudi perfetto adesso ti volevo fare un eyeliner sottile sottile come quello che io d'accordo è veramente stra semplice mi basta andare a prendere allora alcuni pennelli sono nascosti ok mi basta andare a prendere questo qui che è un pennello di precisione per sopracciglia ma che io uso ok che io uso sempre per farmi l'eyeliner perché è comodissimo e semplicissimo da usare allora ho due palettes questa è un po' più elaborata si chiama Liberty Palette è un po' più alla prossima cioè la che cosa le sottile la l'altro invece è una paletta un pochino più classica diciamo proprio che tutti questi colori si possono portare benissimo di giorno anche quelli un pochino più shimmer e di solito io mi metto questo colore quello che adesso è questo colore lo prendo con la punta e lo faccio strisciare dall'occhio verso un po' in alto verso la fine del sopracciglio cosa ne dici? ok e poi magari possiamo mettere sulla palpebra un pochino di questo colore per esempio un po' scimmerino o questo un po' chiaro giusto 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 per illuminare lo sguardo per dare freschezza tutto molto naturale mi piace a te? ok allora vado appunto con questo che si chiama lapis 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 non ti ho fatto vedere questo è molto carino perché ha tipo il tessuto sopra non so se lo senti ok e vado chiudi l'occhio te lo vado un secondo a tirare ti vado un secondo a tirare l'occhio e ok vado un pochino più di precisione e lo vado a riempire ma guarda questa tecnica lifta un sacco lo sguardo con niente perché vedi che non ci vuole nulla andiamo anche sull'altro occhio te lo tiro un pochino ok e lo vado praticamente prima stampare quasi e poi attirare verso l'occhio non vado fino a qui mi fermo all'inizio dell'occhio wow non ne hai idea stai di un bene ok adesso metto appunto con un altro pennellino un po' più largo un po' più morbido vado a prendere questo colorino questo colorino qui che si chiama marino 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 ok e vado giusto a da veramente semplicissimo adesso mascara 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 metto via l'ombre il mascara se non erro avevamo scelto quello marrone che ci sono vado a prendere anche il blush e la perra che sono nella stessa bocetta mi avvicino e vado a dare questa passata di questo mascara marrone che veramente dà un effetto super 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 naturale mi piace tantissimo vado zig zag zig zag zig zag up 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 guarda in basso zig zag zig zag zig zag up 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 e anche sotto e anche sotto zig zag zig zag zig zag zig zag up 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 zig zag 많 up 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 zig zag zig zag up up e anche sotto e allora fammi mettere un pochino di prodotto sotto e sopra verso la fine appunto per dare ancora di più questo effetto ma ti sta troppo bene sembra fatto per te adesso andiamo con gli ultimi due prodottini perché da quello che mi hai detto non vorresti il rossetto tanto andiamo appunto tanto andiamo appunto anche a mangiare allora vado con questi due prodotti in stick con questo backing card bellissimo con questo pack in carta si chiama bronzi ed è appunto un bronzer una terra e dello stesso brand ho anche il blush il blush il blush il blush che è quasi finito è di questo violetto rosè si chiama bellissimo è quello che ho indosso anche io è super naturale meraviglioso un po' freddino quindi vado proprio a fare il contouring e vado prima con il bronzer anche un pochino sulla bronzer e sotto 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 il viso poco poco leggero naturale e vado sulle guance sulle guance con il blush questo è anche un pochino luminoso quindi non ti serve l'illuminante perché ho già previsto il sole c'è il sole ok quanto mi piace il sole della carta contro carta adesso adesso andiamo a prendere l'ultimo pennello io prenderei questo qua un pochino angolato e vado semplicemente a sfumare ok sempre dal basso verso l'alto dal basso verso l'alto dal basso verso l'alto sempre con effetto lifting ok anche un po' qui sotto lo avete applicato e sulla fronte sulla fronte meravigliosa meravigliosa adesso dall'altro lato adesso dall'altro lato avendo vado prima a sfumare tra blush e terra sempre verso l'alto sempre verso l'alto fronte ci sono dei bambini fuori che giocano sono molto belle scendomani risate i bambini e infine sempre da un basso verso l'alto il bronzer nei lati del viso qui sotto ok molto bene io direi che siamo pronte per uscire in perfetto perfetto orario ti faccio solo guardare cosa ho combinato ok ci vedi da qui ok come ti sembra bene sono contenta vedi che la pelle è bella luminosa anche perché abbiamo fatto una buona skin care bella idratante ok anche il contorno occhi si più levigato ho fatto veramente un bel lavoro ok allora adesso direi che ci finiamo di cambiare mi metto le scarpe se vuoi cambiare di maglia non so che outfit abbia scelto per oggi e direi che ci vediamo in sala fra 15 minuti può andare bene d'accordo vai vai io ti aspetto grazie per me dedicato il tuo tempo a un po' a